In primo incontro con Callipolis quando è stato presentato il progetto, l'intero progetto Stavano parlando della località Zindis e ho iniziato un attimo a intercettare tutta una serie di informazioni per capire dove sarei andato. Zindis è una località vicino Muggia, un quartiere in cui c'è grandi palazzine, appartamenti dell'Ather. Ho pensato di costruire e di comporre un piccolo giornale che raccogliesse pensieri, lavori, attività, sogni e ricordi di questo gruppo che è cresciuto e si è sviluppato nella località di Zindis. Di Michele Tagliarioli in questo progetto c'è prima di tutto la progettualità. Ho cercato di arrivare meno impreparato possibile a questo appuntamento e c'è una gestione compositiva del materiale raccolto in cui io propongo, ricevo una risposta, questa risposta la rielaboro e poi la ripropongo per costruire un'opera. In questi termini forse si sente meno la mano dell'artista ma accresce maggiormente quella che è la partecipazione degli altri all'interno della residenza. Grazie a tutti.